Strade provinciali vietate alle targhe straniere nel weekend in Austria, che potranno circolare solo in autostrada. Accade nella regione del Tirolo e le proteste più vehementi sono arrivate dalla Baviera tedesca, da cui provengono molti frontalieri e turisti. Il tema del traffico frontaliere è sentito in molte regioni d'Europa. In Italia la situazione è complessa al confine con il Ticino, con gli svizzeri che ogni giorno vedono intasati i valichi da migliaia di persone che lavorano nella Confederazione per poi tornare a sera in Italia. Anche qui le proposte sono state varie, da chiudere i varchi secondari allo spingere le persone anche qui sulle tratte autostradali. Il traffico eccessivo in provenienza da una regione provoca malumori soprattutto a chi in quelle zone ci abita. In Ticino, fra l'altro, limitano la velocità in autostrada a seconda del traffico con autovelox smart o intelligenti, che dir si voglia. Ma per ora una soluzione definitiva non l'ha trovata nessuno.